ok a fare sicilia chi ti dice sta iniziando le sezioni dei contenuti in corso pubblico verbo vero tra un'istante parti xx ma capito bene xx a proverso e si traccia a questo messaggio dal vivo diciamo dal vivo siamo in libri credibile per l'esame di salita la bomba arredata costa studio i vostri miei indio sceglione che pini ma smarlinger indietro domenica rettolino l'antorino carriamo a tolto paolo 94 st voluto con l'evento ea. se chiamato l'avevi aggiunto te dopo e c'è stato anche un video di cibo le dico il nome il premesso pubblicità di vinci via perché c'era a sisi che per te ma tipo con laso chiuso paolo il numero non era una moto rascorreggio acci perché c'è uno che si chiama yorick boy friend non lo sei tu c'è una leggenda ader magic sempre sul pezzo freddi 721 ma non ho capito fai proprio schifo freddi fai schifo freddi fai schifo fai solo ma il suo posto fai schifo oddio che genio che genio che ammazza sei un genio spacco il culo di occa sei il 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 mio ben magic preferito 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 e no io ho portato si si ho fatto per dire il download ma ah dopo il mondo saremo in livello in freddi fai 3 2 1 ce ne sono altri quel freddi 700 col freddi ecco 2 2 senza pal 2 senza pal palle ma che no cosa sta dicendo leggi dove chat di lol ma tipo c'è un link per la live vero eeeh si perchè c'è la dashboard non è lo stesso io c'è questo o o o in questo partite ricoprò il ruolo del troll allora dove no cazzo non tutto ora v v v v v ma c'è un piani di merita messi insieme si dovrò v preferisci tango o chi due palle se non tre o burn magic no burn magic due palle senza tre se non tre mica perchè leg dico senza tre due palle senza tre anche prima l'ho detto botte su come che cazzo eh perchè non c'è due senza tre puttana di merda allora non sto capendo attenzione è libero è libero no 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 fra 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 sciallo vince fà scollo va di catturità da dif Els Cheese la far cosa stai facendo misteri a rio domani di studiare un'attività il signore di sempre soliti politico di club sportive stit vivi in c va bene se mi crede che il problema di carri si infatti st tatarata town ahahah io ho scommet we are gonna lose this game per me midver ehm lo so principalmente per quello si infatti cosa è infatti eh infatti non ho fatto fai da accettare uno strondo è di mamma mia o per di perdere di accetti allora ho declinato per sbagli non ci credo mi chissà guardare la giura su un'altra pagina apre clicca il coso direttore direttore subito in te spero raste delito tengo il client infine in prima persona c'è in fin posto riuscito vedi cosa ha fatto c'è 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 certo che lo conosco è uno dei massimi spieghi della musica italiana ma cosa c'è c'è boh sto leggendo quello che c'è nei video di facebook accette ma gli accetti però stavolta non saremo mai così superbi così crocchi però l'assegnato è un corsivo inferiore what mi sento come mi senti se parlate what lui ah che è il vi sta guardando lo streaming è skype con noi i su questo un colpo il suo uo chi spettaventare così si si e per un po' in ritardo perché sti un po' inietro si di tipo 15 secondi il primo gioco 10 secondi forse di tal il post lo servo ah no non so chi giocare sono molto euforico probabilmente da di henni perchè sono veramente euforico stupidi champ andro di henni probabilmente 10 eh però henni 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 bambino curioso c'è 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 la testa la testa è stata soddisfatta c'è 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 vanno senza paura madonna 3 calzo dobbiamo c'è cadere cadere molto 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 forte avrebbe dovuto ballare no non mi non fare lui io ricco e per lui rex un povero molto uri ma non vuole capire via bagnari oddio invece fatti di victor su sari ld piv 2 contro 3 scelti farò ben indienti e mi sento in tèro la moton ma con leggi vuoto vuoto vicui qui tu e 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 tu del rito io tu e 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 mi puzza risima freddo oh 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 o regalata che c'è il streaming insieme a mano un po' lungo titolo di trinciato si dice che siete drogati come noi ma mai quanto noi lo sposto del gioco xd io non amo 4 di mattina 5 di mattina possiamo prendere 4 e mezza poche stop in giro ma ragazzi c'è poche mongo è stata la vita io no vabbè Federico schiforzoni no schiforzoni no e comunque non molta gente va in giro alle 5 di mattina per dei poche stop però qualcuno sta facendo le palestre si a casa tua qualcuno batteva in continuazione casa mia che è praticamente isolata e qualcuno che batte continuamente dalla palestra la persona non mi sta bene il tuo vicino locca freddy freddy locca il tuo vicino è ovvio catarina ma peccato peccato ma perché vincito con catarina deve essere tipo ritardato per perdere contro catarina c'è un bucchio ma passi sad sedicizzare catarina 22 0 ma per il giro che gli faccio perdere io vengo un video di dove siete siete dove siete freddy si fa solo il terzo efe si fa un mcd il piscale a biaudini se il senso sassuolo se solo 1 sassuolo preparata per iniziare si anche per te la scritta per me raga vado a scattare a cagare ciao torna da nello stesso per non subito ma per il sol quest'anno di no gli spieghiamo il perchè gli diciamo vai a prendere un ghiacciolo allora un bel giorno d'estate federico dice io vado a prendere un bel ghiacciolo si alla menta oserei dire no torna dopo un po' senza dire senza dire rega son tornato si siede si sente che qualcuno si siede cambia la scena cambia la scena è automatica ehm si sente un po' tipo possiamo fare il verso mano che ti dice si si il verso era il tale ma ragazzi se non così di più se non tre cioè la mia mano tipo è feddy non è feddy qualcuno di quella camera di di parola parola come quello sullo spazio di spacca palle s e quindi c'è questa po' c'è il tubo di mercato per che ora che abbiamo qualche spettatore in più per virgolette c'è la media siamo sempre più in alto rispetto a pc e non abbiamo problemi con non ho problemi con la vannezione rispetto a pc perchè non so perchè mi dà dei problemi strani mai ci diceva periodi 15 anni quince secondi mi faceva cadere la stream in pratica youtube invece abbiamo fatto un po' di stream non ha dato problemi per ora io questi vero lo scrivo di più di pc in due per due mesi ha funzionato di merda per un mese invece era il miglior ero meglio di youtube a momenti per la connessione è un po' così e la peppa ma ragazzi che mi aiuta il grano la botte della madonna io evite che merito che merito che merito che merito io ho frasciato vabbè freddy ah oh fuck game rtvo comunque se ti vuoi fare qualche game con noi intanto eh eh fuck you and focus che cazzo dice fu l'hd e il mano ma oh raga aiuto oddio ho avviato anche il nome del mio play store aiuto raga raga aiuto oh se muoio mi ammazzo ok il tuo accanto la play ti ha zeccato la mano e il mano ti distrì mi piace un concorre con l'ho vecchia in griglia il mondo il mondo il mondo il mondo il mondo pò in lato il mondo il mondo di infatti sei idro come è pronto dai un po' ammattato mi fucuseranno quindi il sito il foco si riferisce quasi ok si fai se cosa stai insinuando per me crocobastardo domani thank you bros no ma la regala milano al volerio attaccarmi ma è un mondo l'opportunità da ibi se con i coltellini in ciclonella astridi che c'è dei problemi ma io sono solo uno dei via di riparerò perchè riempiono la parietà della mia accontreremo questo è incredibile anche mentre stavo arrancando allora ragazzi in partica mano hai il cos dell'acqua il depuratore uno che si chiama assiduo commentatore ha scritto ciao mi piace la fregna anche a noi siamo migliori amici comunque in particolare è successo che abbiamo scoperto anzi manu ha scoperto che in pratica lui quando gioca o comunque con la wifi attaccata qualcuno riempie usa il depuratore a casa sua la wifi decide di andare bene un bicchiere d'acqua dare ask dare ask e farsi i cazzi suoi quindi manu se qualcuno è ingegnere sa spiegarmi il perché di tutto ciò mi farebbe una favore quindi manu morirà di sete piuttosto di vincerle la anche ma io dico c'è l'acqua in frigo prendila lì la riempi dopo oh non sto farmando male se la vedo se è veramente un favorito non troppo mi sa capire ragazzi ok fi f mao kai no ha fatto la kill katerina se avessi follow no non se lo sarebbe killato dai fra che vengo io uh ah ma le favore adesso cambia la minchia ah dove sei oh dove sei oh fra 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 aspetta uno ha scritto si sente male la qualità è bassa siete anche su twitch allora ti spieghiamo siamo su twitch la qualità è bassa l'abbiamo abbassata perché molti non riuscivano ad ottenere la qualità che era 120p 60 frame abbiamo messo 480 eh c'è 480 e su twitch su twitch invece eh ci dà dei problemi di connessione quindi proveremo più avanti e invece il ciclo ha scritto e quando sarà l'estrazione appena arriveremo abbiamo deciso a 300 300 iscritti quindi è tutto questo è una musica di tempo yes eh mesi senti maravola allora la propria la propria non sono una moda diversa sì su camere eh bene come un ingaggio mail arrivo eh non mi sono l'uomo il padre di te e non ci faccio però non so messo ma la parma non avendo tanto quella che io vada capirai cosa vuol che sia tutto paziente dopo il valut alivina perché mi trovo scritto un po' vabbè minare e poi il cilio che il capito speriamo che ci arrivate subito ci siete quasi eh speriamo il cilio però un bel un bel traguardo comunque sì abbiamo la streaming a 60 frame non so che molti poi l'abbiamo abbastata addirittura a 360 no a 720p prima e poi a 360 poi abbiamo detto no 360 non ci rispecchia quindi no però voglio dire alla fine 480 un po' e' la zona ma felice un po' tutti mi ricorda anni fa mia costruttore hd ma mi fanno su un punto di dover rifare esattamente capire ferrero scuola ma ho capito la farla chi li di qua casco c'è un bacaccia poi arrivo ma io non ci non ti posso vedere ma c'è più dagli non c'è più contare rossi io la quale abbandonata arriva ciao tra seconda possiamo oltre a giocare la tempo alle gioco anche mi dico però non so ci proviamo ari mi diverto per test non ci posso fare il momento scendere atto posto di oro torri a ricca al marco roma solo perché c'è il supporto forte l'universo alice filola paro breccia provata passano io io si ha il teo stato per dire si hai reso triste vinci è perfetto 2-0 2-0 c'è con la paglia stazione stazione nord, stazione nord questa azione è separato nel caso vince vince è troppo molto molto no, voglio giocare monotele ragazze per esempio ricordatevi quelle persone sono state per cazzo che pali sti coltellini o nonna Anna I'm mad life ti piacesse? no, tristana ma che cazzo fai nel livello sotto il ritardo non be' no, cg cosa passare offesa e la abertendi sappiamo come cosa sappiamo che son plemerino ma ciao master no sgrabagli tutta l'ex perché puoi master fa le scontelline che ha nel grange ct god faccio ha ragione come ha ragione no no ma nel senso quello che ha detto fai in streaming è dato della ritardata lui ma non è vero arrivo mid vinci adesso bisogna fare il 6 e poi possiamo fare il 6 e poi possiamo fare il 6 e poi possiamo fare il 6 e poi ci ha fatto ingaggiare per lui cazzo sono bello cazzo facciamo gli stai action ma lì ciullo tipo metà torre e mi pupano la fava ok ecco quest'interno lo conoscevo la comprata eh capitolo perduto cosa fa quando passi di livello e ripristi del mini buono ah ah no no ma bella l'aria di farazzina madonna per quello che vuoi invece tutto per del mondo la carri taimi tra spin di tristana veramente io per se fare l'operazione di tutto f asia massacrof quanto mi raccomandola farla chi sai questa è la catarina noi o di un po' poi una rivata ma non voglio finire la напarte catterina face caterina manu e ti salverò come sta stanchezato di merda no, lo sono nata fratello scala, si è scappato proprio TEDU Mi confondete Dalla che ditta Drago Malfoy è il caos, dai prendi sto Giorgio Dai Fadi sto solo aspettando ZUKA! Sì, mi mando a suco da solo io posso, possiamo derivarla, io il flash pure io, io ho una penina no no, vabbè, facciamo in due se è costumata fatto ok vabbè, miglior supporto, volevo fare, volevo fare sono killing spree, siii volevo fare flash q per stila ah, ragazzi, stai diretti anche tu rinforzata ma brava adesso te stai facendo un buon 3 brava, ah, questo muore, però non ho focusato, però buono la storia non trovo, ma l'ha fatto bene, il flash era inutile mmm, vince, sai cosa mi faccio come faccio vedere? che si sa, big action ah, Iifling no, non lo dico, non lo dico perché mi è sgavato di kid puttane la lista dei suoi schif la lista ma no, sono io e certo hello mi confondi in gioco al blu, non te lo do fagli è rotto, io ho fatto lei così e sono andati lì possiamo arrivare cattos per tasmano no come perché si è fatta il magia e sta puttanella? se mi cazzo contro un milioniere della minca secondo il milioniere più forte del mondo di uberset gioco con delle canzoni che non mi pompano quindi... oh 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 beh, vorrei che ho fatto un'azione da super god ho salvato tristana eh, vabbè, poi si è fatto prendere però ho fatto tipo la best action NO! MAI! all'ultimo certo, ultimo no, mai comunque con il flash non so perché credo che hai tirato l'attenzione verso il super magic non volevo non volevo ma forse si è onesto questa pink mi sembra così stupida andiamoci CAZZO CAZZO quel super di merda guarda il nostro super del cazzo perché Jinx è così vicino anche alla torre? quando parli sembra un robot ma che è che sembra un robot? ma perché sembra un robot? perché? non lo so perché vuol dire anch'io questo è perché c'è un ventilatore di fianco ma non credo non è vera il popolo face si è in caso perché sono un robot per insul per i menini stilla far do c'è m masterio ho avuto per ammettere i miei 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 qualcuno è topa ma non vedi che c'è anche cosa masterio ma sono solo perché sono anch'io vengono qua mano va red c'è il progetto non ho fatto 3 4 da apri a riavurdo e rado di foto con il livello agili indori un suo 2 maria maria di fare molto caro oltre a parte col d'autore non c'è la sua patore c'entrignati giro schottiamo testo livello alto la linea e sta scendendo che non so c'è un più mostri c'è la materia apriano adesso sta scendendo dire di aspettare per un incontro un po' interi per la tua un'altra ora per il il mondo del portale quanto se porto per si il quaglio la famiglia pesando per la chile per amico lontano non c'è troppo po perché offertoso piaz allora non gli stai ma non è che c'è la data che cazzo di fast is troppo facile giocatore non ho più parole a questo gioco di mare troppo fai guarda che roba parola che voglia che voglia che la festa di di ritardati c'è qua l'ho fatto a me io non so guarda che guarda che dopo il chiesto e poche d'arte cazzo la esigo la esigo dopo se avete fatto abbia fatto rispondenti che puttana supporto e supportari è la roba libera consigliere smart per far 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 che arriva a te lo consiglio basta saperlo giocare all'acchio cazzo di last divina scherzai peggio la del mondo di patty ah ecco chi so è vero e infatti mi ricordava qualcosa eh ti guardavi eh io va le seghe su sul mondo di patty io va ma scherzi Antonella oh fra fra topopo cazzo che sopra linea mi scordi per un supporto per il cazzo tutto nel culo pazzo del magico mamma mia che fosse partito l'alto di cazzo arriva cose di jinx quindi aspetta che ma che era nato tra 15 secondi tra no pd cazzo di cazzo sai vando ma ok da qua ve lo dico perchè sono il migliore del mondo altrimenti dopo da lia no davvero era lì perchè si stava incamminando poi ha deciso di cambiare via è andata in via del tutto eccezionale no, cosa stai era un tentativo di battuto per dire no era un riferimento italiano medio che tu sei ripi per le stelle sono molto meglio di italiano medio sono un italiano inferiore ecco alla media e ne vado molto fiero perché la coppia con un microfono della non è un brugliere the god microfono o aiuto cazzo rivo cazzo il is via dracomal poi ma quello del vento non mi piace dalla e che bra a r succo forse il suo portiere se io ero che danno di tristata ma nonostante fortissima la conquisti storia che vince il mondiale c'è perchè non ha vinto il brasile europeo cari torrentino argentina con un giro bancario risposta e il cd spedin ho pensato come cazzo faccio apoi a ritmo di ping basta parità di pacco da uomo milano spendiamo il cacchierola di scartoncini che veramente barbona lo schifo fatti attrapporti si muove sopporto io bella in marzo ecco chi non ha sciocciato il drago effizio ma per attacchi oltre con quello che ha fatto ai siti due per cento kak 0. no dico rovigite burlini pazzo del magico attento ti salvo io siiii ma domenica che c'è tolva da te fatta via ripresi sul mondo di parti ragazzi è troppo facile sto game c'è 11 assist io 16 cosa ho scritto per essere di patti si di patti del mondo di patti per te guarda mamma mia mamma mia ma che ciò non l'hai cacciato il il che te che sei io sono il giocatore capo scusa quale super fa 8 kg sto scherzando chi più verdoso e questo tutto 16 assist per l'utilità del support per fare e fare le kill il c a 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 riuscire a rarraggare un po' di riuscire io sto dietro di te così la prendi tu infatti ora ora ho anche lo scudo così non mi accida io ti volete vedere un beto blu di mastery adesso arriva in sei in sei, più il bar arrivo anch'io con poca vita non mi interessa me lo faccio a lui no io lo voglio rubare diverso non ci sei riuscire ecco ora è veramente il sei oh oh l'ho preso troppo fortissimo oh oh se sei tu madre a pecorella grazie sii 9 kill come cacchio il re si 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 oh ma la ricordata se condigliano regni ahahahahah ahahah è cos'è però è troppo easy io non voglio fare troppo schism è vabbè ma dipende dalla forza di chi gioca è la mia tripla questa ragazza forza ho fatto a matola ho visto per la rilasciata io ma che cazzo faccio a fa 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 se il pre il centro l'ol cosa dicono sulla chat mamma mia moca è più bello di canelupo se che sono canelupo per il fatto di canelupo poco un po' che non possiamo dire ragazzo la ultima torre ma io vado via ciao ragazzi ha dato tutto è dato anche la forza di dire ciao si è un altro kill le mie kill si è un altro kill no cazzo si gira no oh mio dio ho livellato serie è livellato un'altra kill no cazzo e la presaglia di w ragazzi questi rinascono e vengono a morire tutte le volte nascono e muo' io non voglio finire non voglio finire si si però non voglio finire è divertente è molto divertente molto fuori io adoro si andiamo tutti i morti guarda che è già questo malcaniere l'italia in non c'è un po' l'italia gr e non è ok ritardato perché deve andare lì cioè vai lì a morire vorrei morire rio augmente rossi ma anche ma se le carichissime la posteriore stavolta armi ora quanto tanto capitano i miei esigeni ma è che capitano sempre a me in normal via che non vinca solo era anche poi non è vero c'è un gioco per il suo gioco che mannaggia ha portato il cuore mannaggia il charmer era il miglior charmer dell'intel dell'opera del soli ai cinquanta guarda guarda che scopo compare nella barri il suo corpo tu rischi di spi al se più preso non è vero sito e un cuore per ottenuta da s più anche io a meno io adesso se io se più ho fatto che ho cariato su con ecco abbiamo tutti cariato ritenza non sa da di almerizzo 3 kg bad bad ce ne ho 11 per per il carico a casa sono 19 io avevo 19 di cosa di assi per il eeeh il corso d'autocontenimento sta funzionando molto bene devo dire autocontenimento perchè sei in consiglio perchè ti sto per mmm mmm non dirlo raga ho forgiato una chiave non ci crederete mai vediamo che cazzo trovo se questo mi trovo trovo la merda open 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 si quando si può fare aprirlo credibile si o cos'è air per sic che ha una guarda vabbè ce l'ho posso giocare con voi certo 10 euro people assiduo commentatore it's friday night and a one bill adesso invitiamo assiduo commentatore bubaie 4 ok invitiamo bubaie bubaie non ci conosce inventiamoci un numero di un software che non c'è spiegare e diciamo che abbiamo operato stai sentendo no 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 dai adesso sicuro ma ma è che andiamo di scriversi no nemmeno quello per farlo basta andare su paypal e cliccare sui gamers hd 100 mila euro però è un'iscrizione normale si ciao 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 no accettate camon camon accendi la radio e sabato notte no è venerdì notte in un lavoro freddo questo fondamento di palle l'ho vuote ieri mesi a ricaricolato di l'articolo se ti sento i ccd ti prego si va bene al concreto burmage che c'è da 40 mila donna e un 20.000 40 mila 21.000 andavano bene stavo guardando in streaming perchè dico se non due palle tre pesta ha detto il tuo nome due diciamo due ha detto dds eh comunque no non abbiamo tss siamo poveri ma io tss lo odio non so perché è il migliore di tutti l'ho sentito puttana ma io che io li ho usati tutte e due quante volte ho usato Skype quanto ho usato su tss Skype tante volte tss 10 volte 20 volte ma perchè su tss ma perchè dito la voce da robot ma cosa intendete uffa ma cioè io intanto sento tipo un te 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 cos'è gli scrivi te perchè è vero c'è che c'è la voce da robot ti avrei sentito adesso si sente tipo la gara ma che cazzo dite no la chiamata Skype va bene però ti ho risentito, ti senti la live perchè è vero è vero ti avrei sentito adesso si sente tipo la gara ma che cazzo dite eh forse è il ventilatore ma stiamo sento ma ma sarebbe anche lui no fa il ventilatore ti posso scherzando prova la scrive adesso no non è il ventilatore no non è il ventilatore allora le cieni intanto vediamo un po' su su tx merda che cazzo vuol dire oh dio it's a friday night andiamo si continua a fare il ventilatore strano perchè boh cioè noi ci sentiamo noi ci sentiamo bene non è anche forse che devi fare il solito cosa alle cuffie devi toccarla cosa? sai che ogni tanto le più cuffie si sfancurizzano boh abbiamo staccato da attaccare il micro oh è morto ragazzi è morto vediamo le sue no ho tolto le staccate le staccate il micro è un bannato Fizz mi sentite ora? si eh vabbè voi cazzura che da fare devono dire quelli della streaming si sente bene o male ah ora sta al posto vince oh lei è una ciubuchini questa è la mia voce originale ragazzi quella di prima era un fake non ero io era quella cosa per il film porno esatto per non farmi sgamare o quello per i messaggi tipo intimidatori per non farmi sentire capito quello è il disturbatore delle chiamare si dovrebbe sentire bene ora quindi chiedi ma mica di scusa Bubai e assiduo commentatore perchè mi ha offeso mi sono offeso cartus jango ragazzi comunque si andrò mid mi piaceva bene a perdere cari ora si sente bene nooo scappelliamo c'è vicenda sai zango ragazzi è finita la tutela sulla cappella ma ragazzi ma gilang jango l'avete mai provato no fa schifo fa scherzando sei buon troppo alti le porte di quella sì assolutamente per il resto di per due uff allora andiamo di cavallo no regalo se giocare z non avremmo della piccola ma come avrete barb fuori di casaria sotto no stanno chiamando rai un numero sconosciuto io rigorosamente metterò bravissima anzi lo lascio spillare però tolgo il via il libro perché mi viene voglia di vibrare anche meglio esatto hai capito benissimo io giocerò fiora sul posto no bobaio non ci aggiungiamo a Skype perchè abbiamo paura degli sconosciuti che ci andranno a stuprare c'è ma è anche bene essere stuprato però fatti stavo facendo le mastery e invece scrivere che mi stavo scrivendo fatti che merda di mastery oggi faccio una attenzione a cash royale in realtà in streaming non chiamiamo nessun su Skype ci siamo giusto noi che streamiamo e qualche volta che riconosciamo proprio bene dico bello c'è ragione dici bene pur avendo ragione cazzo mazzare ma che che ma perchè merda indirega perchè yorick io yorick c'era mazzare c'è mazzaro per cazzo ma corto adesso mi cazzo te ne frega mi dà il culo mi dà non so lui c'era rivali due attacchi lo squarto che bannato di merdaing no io bannato yorick yorick ecco mi bannati in team oh attimo ci sta come bane selvaggissimo come si potete fare per esempio cercare potenti sportive lol esatto esattamente lo farò sportive ragazze andatevi a vedere il blog che è uscito due giorni fa altrimenti altrimenti si chiudere ma perchè mano contriamo da verità clan vhd c'è che cazzo lo vuole c'è che non c'è ma anzi lo tengo io fiero esatto easy to lay not leave smugia cadmium cazzo pure mazzare visita not to make no to say so che bella la skin di morgana o quanto che la tua mano uuuu organa spettro lunare ma ora che bella la skin di cosa da caterina sto cercando con gli occhi con le facce no veramente la più bella quella lì di pussana non lo so quella di nalga c'è la carina perchè forse è recente anche quella di bard, non ama il bard no mi fa cagare sia lui il che il player che è in questione quella di tranne le carine ma luce anche con quelle haircut e spring summer non ha detto un disloal gandriamo te apprezziamo we don't care about the dislike perché abby going to carry this game and we don't care about that game you should catatata in carta di questo è che è la sua scatina e che è la mia patata di carri che è una cosa i luciano il buballo e ha presciato bubo atto bene anche io io sono rosto da ciao Io sono l'unico fru di puttana che non fa un cazzo Ma no, ho usato il doppio ghost, ragazzi, era inutile in base Oddio, oddio, ma che insetto è? Rega, ma che cazzo è? Cos'è? Sì che ti serve, Lian Cos'è quell'insetto? Oddio, rega, non è umano Rega, vieni dal futuro È un'ape con un'ape dietro È un doppio cannone, non lo so È un upgrade di diep, appunto, io Rega, ma è enorme Apri, fallo entrare È entrato! Ah, è entrato, bello Fai la foto Ma che fai? È più importante condividerlo che viverlo Sì, poi la metti su Instagram, metto tag Esatto Si chiama BigBossUp, non lo so Sì, boss numero due, ah, per esempio Merda, come stanno i miei cactus a proposito? Sono molto bene i miei cactus Ma solo te c'è dei cactus in casa? Eh? Solo te c'è dei cactus in casa? Due per esattezza Non è vero, sono bellissimi i cazzo Grazie, Freddy, mi sei sul cazzo Sei enorme il mio cazzo No È che stavo per dire È grande quanto il mio cazzo Poi ho capito che il mio cazzo è piccolissimo Quindi non ho fatto quella metafora Perché non l'avrebbe reso Ma non c'è di che te lo vuoi dire così? Almeno il mio cazzo è veramente molto piccolo È veramente molto euforico Oh, il cazzo è veramente euforico Sono veramente euforico Oh, il cazzo no, regà Dai No, regà Bebbi Cacate fatte fatte alle bole Dieter Masse Ma guarda che finché lo sa così lo usa male Dieter Masse La vita, madonna Si ammizzano un bordello lui Ma è normale, giochi passivo Parmi Passivo Filippo Lo so Passivo io l'unico erisina ovo fa certo e se di quelli che metodo no vido spartano ma come p carone e b e pico il ca non voglio il as per un stand non serve no fai discusi tendo le tue marche no foto park o mazar ma mandato un po confuso così confuso o ma lo troppo ha tratto omaggio ma c'è il pacco ma c'è il testo sui occo a casa stimi poi c'erano verso braide e pokemon tipo che non ho mai visto e se non erano di quelli era un charmander sai ah poi ho peccato un altro squirto da 120 proprio un altro è il bull boss ragazzi stiamo parlando di pokemon go mico tu mi calchi la minca questo vabbè sei om in pratica oh zio sei un po om oh zio vai che c'è tutto vai che c'è tutto vai che c'è tutto vabbè aia guarda mano posso dire una cosa aspetta 10 secondi e torno ah quanto sei forte spiegato tanto muori io sono catarina sono anche main mi chiamo daz che sono main catarina da 1998 si si su oh zio faddy quanto sei forte faddy si si bravo faddy non gli dici niente faddy vado di magic resist ragazzi farò il giocatore testa per la vista il posto il fatto di vista il suo per il suo percorso di medici credo mi fa una fava di donna come non farò una fava di donna lui però vabbè che c'è capito concetto non c'è un concetto c'è un concerto e live senza senso comunque ho spiegato su me troppo esperto paga tutte tu eh se ti cancassi però anche lui è stato flash ignited aspetta 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 che ora faccio il 5 guarda che wave c'è zio con le pasta nelle tasche mi incambo ok ma ha attaccato l'ebo la mano quindi incamminati eheh 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 sono tornato proprio a casa mi chavo voglio di tornarci quindi l'ho fatto perchè la vita ragazzi è una sola e va vissuta e non ascoltata no dai mi ha fatto la bua oggi c'è che cosa jenga varendo jenga troppo poco un po' di uno speci con un cu per rincare all'arri faccio i dubbi quanti cazzo di tumoretti ha chiamato un po' e perci sono waitami ho avuto quando lei tra secondi 2 aspetta 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 vai come da casa ti aspetta prendi questo non c'è dovrebbe avere flash sono forte io arrivo mid fai gli andiamo mid ahahahah spiegato dai prendi e danno si vai ma silenzio io vado vado da ranga vai ti sta ricollando qua da qualche parte guarda 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 nooo ho fatto tutto io sei stilato da chi io eh perchè io l'ho chiuso da dietro e voi l'avete visto quanto è stato qui questa cosa l'ho stungato domani metterlo chiliamo adesso viene eh vince mi fai fare il blu e il gump e poi c'è per salire io vengo anch'io morto no quittà mi fa che deve prendere vantaggio anche il giallo e oltre al supporto e mid laner più gente prende vantaggio più è meglio più meglio è c per lui anche senza mano dai che allora vuole ricordare spettacchi vado a romper il cazzo guarda va e non può parare una spella con quel cancro io guarda che glielo faccio sprecare no stai avendo un coltellino forse sta arrivando ranga si ecco ah ci sono io ci sono eh lo so però non ha lo scudo lo sapevo che c'è no no via 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 eh lo sapevo perciò ciò citiamo lui in gioco l'ultimo si che c'è l'ultimo c'è anche l'ultimo però c'è anche luce aia sopra andare eh potevi infatti c'è l'ignite come eh si lo uccidevi cazzo questo non volevo vince vuole andare da lui ad aiutarlo ma facevamo la kill tanto sei amato comunque cazzo 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 pit cazzo lol lol alla mao alla mao la madre poi poi c'è ancora la utila potrebbe venire bo ma botte stream la torre quindi non ci saranno cd ci sentiamo ci conosco conoscere le relazioni grazie c- n l'anno questo mio cazzo servizio ma quando vuoi e poi mi sto malzahar mi sto malzahar no che è questo che mi dici sono così forte veramente sto vincendo io mi giochiamo che è diverso 012 io ero anche 002 bravo messi bene cazzo cazzo non ho scusa ma lui c'è cazzo perchè me la perchè me la non cazzo eh perchè non so perchè perchè non so perchè u ho preso il volo cazzo sta facendo ragazzo sono sprecato tipo un casino di roba le stanno potendo sprecare e adesso possiamo anche feita faccio un bocchino ma ha flashato tristan come si che tristan comunque ha flashato aria le 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 si marco cazzo da il tariff la no sono morto ragazzi però ho ucciso Tristana aspetta provo sto mico ah perchè ho flashato eh no cazzo muoio scusami non c'è scudi ho morto mazzer vabbè si no 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 luce davanti ce le voleva ecco chi è che lo porti chi ho porti st 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 ragazzi vado ad andare a chiedere con la mergiana che sta da più bene eh posto tracu ma va a cagare sono organica mano per il io ho la ultima dove costare sessanta cinquanta oltre avrei continuato solo che c'è la testa ma ciò cercare di leggere 30 vorrei davanti a mano non parola i c'è c'era qualcuno il c'era qualcun qua di c via la rendo dica ai cinque stacca stai arrivando 3 ma non so se non so perchè c'è gente che picchia ancora non può essere il credito un bello accetto sull'ultare luce riuscire da reggiatore spazio a non c'ho avuto arrivo 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 perciò c'è male da riposso sull'isola arrivo anch'io mamma mia stondrips all'interno di provincia randotello per il fatto di tutto ciao appena ciao appena ciao appena andi a mano si arrivo da dietro ha la dvv però lei vabbè Oh c'è il loro blu Ho l'ultimo tra un secondo Venite, aspetta C'è anche Mazzara ragazzi C'è anche Mazzara Eh, c'ho l'ultimo Vai 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 Però aspetta, mi serve Mazzara senza scudo Accomi, accomi No, me l'hai spostata Ah, cazzo, non si arriva su quello Ah, l'ho alzato di niente Non c'è l'ottore niente Beh, c'è luce, non c'è luce, non c'è luce C'è il blu anche, allora Eh, andiamo, aspettiamo a render tipo qua, vieni qua Oh, cazzo, la pizza Facciamo organo, la pizza, non so se c'è luce Ma lì c'è luce, non c'è luce C'è luce, non c'è luce C'è luce, non c'è luce Cazzo, c'è luce, non c'è luce Cazzo Mera guardata, no, guardata Tristan Ma era guardata, non so Eh, bè Quando è arrivato Unlucky Probabilmente, c'erò guardato tipo qua e qua non ci ho visto uscire Sci 15 in questo punto il momento ottenuto arista invadendo red e possiamo uccidere sempre stanno e è solo 2 i cd vai vai attaccare no la luce non deve stare più però fa bubble è stato Rangar non so come però apprezzo la kill ciao Pino always e comunque ciao Pino arriva ah dai ciao Pino prendiamo anche lei adesso vieni qua dai veloce veloce prendiamo anche lei sto rimandando io coming come vado fatti contro sempre contro sempre con sapere con sapere non ce l'ho io ma non c'è lo io mi ricordo anche lei la fa proprio lei è quella bella c'è inculato in pratica fatto di disegnare più grande del nostro ma la parte contro se quando ha scrivato il dato ultimo l'ho dato punto il in uso il taxpayer primo lui fare il marco bene la mia è quello che mi va per me che mi ha preso ancora dentro di quattro ea cattarino nessuno world worst champion ever per prendere le torne difendendo fa di quanto è successo la vera sta difendendo catriona fa di prendere dico quando fa errori ma anche quando fare così giusto che succede meno volte quando succede un'esatto cosa succede non succede ma se succede ai cattivi per fare l'uomo l'uomo non lo so poco lavoro questo avviso dei maiali mi coincidenti ora c'è il re ci siamo 3.4 aria il mondo un pozzo ma c'era solo ne basso qualcuno no no c'è solo mamma come cazzo dai che palle quando sei strutturato se è morto di no buono foto 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 c'è l'ultima di secondo si tratta un po basta c'è l'ultimo non ma prego no perchè non ti attacca no doveva continuare secondo ma che rendere il testo e il posto torre e vengono poto attaccare tristana vado a sacco di vita auto il cazzetto e bisogna continuare adesso prendiamo la bomba dobbiamo prenderci assolutamente questo e testo io la ultima che palle il microfono è iniziato a puzzare chi? il tuo a puzzare nel senso ma il cavo raga sti cuffie hanno anche due anni e non sono cuffie da madonna staccate di attacchi però ma spiegato il più spittrande tu puzzi comunque morto guarda ma l'ha avuto muore anche lui il tuo spazio è morta la via la via la via la via la via finiti era sette secondi ce ne vogliono otto con la maestria per l'opera in quella vecchia. anche solo per il tempo di castro sull'attività id troppa gente notaria andare botte io voglio non so di usare l'ultimo protocopo che mi ha spillato il libro c'è anche render cominci cazzo saluto arlo volo parlo posto in osservato un po' sei farò cazzo stili un'altra la 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 sono povera nasus ma possiamo provarci da essere ultimi versi possibili non vediamo tutti quanti malamento non se risparmio la vita di te qua c'è tanto vince vince vieni qua aiuto la uario la moglie di ora gravi te qua sto distruggendo tutti ma sto l'animaletto guardiamo tutto e non avete solo 8 subito ma zekane ma alzare ma che c'è un problema da in base a cagare non può essere cento così da che evoca tutti quelli si stronzete lì ti sento il posto ma però fa schifo nella mobilità basta non si dice per me ho detto per me ma però non si dice si è vero si spiego in generale ma però non si dice esatto esatto ci sta dando solo regole di grammatica non so ma per dire però è più meglio quello di più meglio si dice in casi estrematici è morto luce lo so io è morto luce inculchi 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 l'hai ciso con arrivo arrivo che sbavo che sbavo dove ti muovi fucking kairina kairina qua c'è dei tristana raga tristana mi fa più la faba tu mi fa ah ah sono morto sfigati luce non c'è lo spiega spiega hai visto non ho chiuso in quattro cittadini intanto intanto stanno vincendo il testo sono 24 24 un po' meno torino non è in grado è un'azienda motore vabbè abbiamo nasus questo tra un po' comincia a cagare in testa ma la parte la parte attrando a quello non lo batterà mai però dovresti andartene borghari segnali se non mi ero attività con la fregna non tolare ho fatto il drago infernale o una bassa a. rengaro no c'è nessun due forse non sappiano spiegato spiegato alto bravo borghari ora ragamanzo e non metteremo apprezzata sfiga c'è se il caso di ora anche mannaggia da eva omerci di quanto durerà solo per sempre il amanzo ok perché ma non vuole non lo spiega ma non ciò meglio st vero c'è a a amo anche mi sembra salvarti anche apprezzo molto giusto non l'ho non 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 ben non 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 pensavo parasse anche i danni a d io pensavo parasse solo tipo knock up con la roba d via attenzione mazzaro molto indeciso cosa fa cosa fa ai culchi non decidi di non prendere il tunnel di fatti fa bene fa bene uccidila ok oddio per questo male no cazzo ados arrivo per favore come cazzo io dopo non ho l'acqua non fa così tanto male per la vita se adesso puoi puoi usciare attraverso di fantasmina posti non c'è nessuno puoi push vengare mi distrugge regalo no arrivo anch'io in due cento con anche naso se la facciamo venga il 15 spacca tutto salgo tu fatto che correndo non possiamo mai stare solo numero non ti piace stare insieme qualche occhio dicevo ma dobbiamo stare insieme tante costo solo corrente mi piace giocare da solo quindi si secondi alla dobbiamo togliere lo strato ok non c'è più il coso la passiva idiota 10 secondi cazzo matumoreggiata ma non c'è quanto è come messo adesso adesso fa molti più danni di tristare il nostro luce però viene sempre delettato non c'è nessi danni per uccidere ok ci sono sare in voglio un 5 d la rosa per la barra non può fare piuttosto che prendo inibito per inibito più worth per noi non possiamo fare niente e tra un po' naso e rd e non si è preso un'altra torre torre per due torre anche rende attraverso a chiara funziona contro mazzaro brenda devo chiudere io le amiche lecce ma è che di più di cisto in te morto fru anche per il poste a caso no ero strunnata infatti rossi armosola zoni cazzo farmi credito il barlume del Watt è scaduto per Rengar no ma c'è anche cosa del Watt il barlume com'è? puoi shottare qui sta scusate la Lef Morgana non è vero ha flashato ho visto infatti non so perchè ho visto tutto il rumore, l'ho visto ma ho visto tutto il rumore sentire la sentire cuore Watt Morgana questi questi scatti feline li li ho mai visti fare ma i tipi di comunque ne sono potremmo vincere solo per nasus proprio così piano copilotti il pilottuto suonare suon mica il tutto quanto solo per nasus così perderemo devo usarlo su vinci troppi danni a dottore non sto guardando sono morto vero no ah io ho trovato in prevenzione possiamo killarci secondo me guardare squitch lo devi killarci ranger che mi da fastidio ma dai una flash turn flash turn flash turn blocco su basic catherine scherzo 3 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 4 4 4 4 5 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 6 5 6 7 8 8 8 9 9 5 5 5 6 5 6 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 7 5 5 5 5 6 6 6 7 7 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 11 10 9 10 10 no io voglio un'arte cazzo bene avete naso saldiccio per quanto sei fuori vabbè non aveva preso ma cos'è sto il tuo per se vive io si vede abitati o c'è una cosa che rallenta e la regia perfetto ora che ero presi è uguale vinciamo tutto il senso cosa che ci ha demolito così tanto marzo dai no 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 3 secondi alla eh zio cane no 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 finita veramente praticamente allora 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 se fanno campare la bunch dai noi non abbiamo farlo sugli altri no 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 ecco no 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 ritrando prendi il cancro di un po bimbo così per i amici un mi dovrei spingere uh, regga regga sta qua fuori qua c'è mazar raga prendiamo free posizione sta margana grande la stanza eh vabbè a mori perché arriva mazar arriva molto non c'è più la ulti è usata su di me comunque era mai mazar che morgana tiravano dritti senza mazar purtroppo è clear quella merda non ci aveva nessuno che gli salti addosso no ok è rimasto non era cosa, era free kill cioè free kill, lui ci ha messo così ah, vabbè va via lui va via lui va via lui si gioca con la fretta così di andare tutto è ovvio che è ovvio che è normal si era normal me lie via fai infinitely titolo maschino scuro che bd bdOeondrante traceto arrivo da loro per il tuo vabbè il sottotituccio c'è la città rosa cazzo il dretto il suo riscaldi ok via via su tutti oh si è il luogo? p***a luce! mmmm ho sentito in terror non vorrei usare l'ultimo di scappare anche se non fanno usare ok e' una foto è un po' tutto il tar e io questo mercato o e vabbè a me ci va così su culo quadrato si è abbastanza cosa si è abbastanza l'hai visto son di pericolo ho preso ma ho avuto di un ardo di più oddio di più non sono secchio più o meno ah! ho mai stato troppo alto di te che cazzo ah boh guys per oggi è tutto ciao ciao non male, non male